Colpo grosso nella notte a Lecce dove un gruppo di malviventi utilizzando una ruspa ha sradicato e svuotato lo sportello automatico della BNL di Viale Taranto. Con un'azione rapida e programmata i banditi, almeno in quattro, sono entrati in azione attorno alle 2.30 e dopo aver bloccato la strada piazzando di traverso due mezzi risultati rubati, un furgone Iveco e una Renault Twingo, hanno messo in azione il loro piano. Con l'escavatore hanno sradicato il bancomat allontanandosi prima dell'arrivo della polizia. Il bottino è in fase di quantificazione ma dovrebbe essere piuttosto ingente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Lecce e il personale della scientifica. Solo ieri un episodio simile a Galatone dove alcuni malviventi hanno tentato di impossessarsi dei soldi contenuti nel bancomat dell'Unicredit ma l'allarme li ha costretti alla fuga. A Calimera invece, sempre la notte scorsa, in azione la banda della BMW, probabilmente la stessa che cercò di intrufolarsi nel bar tabacchi della Total di Martano. Nel Mirino dei Ladri questa volta è finita la gioielleria Leone che si trova in Via Roma. L'intervento della pattuglia dell'Istituto di Vigilanza Almaroma ha fatto fuggire i cinque individui con i soli gioielli arraffati dalla vetrina dopo averla distrutta a colpi di mazze ferrate. Le indagini in questo caso sono affidate ai carabinieri. In queste ore le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di indizi utili per individuare gli autori dei due colpi. Incendio doloso la notte scorsa a Nardò. I gnoti hanno dato fuoco all'auto di Mino Frasca, presidente della SGM, la società di gestione multipla del Comune di Lecce che si occupa anche dei parcheggi a pagamento nel capoluogo. Frasca è stato anche consigliere provinciale nell'ultima consigliatura e attualmente esponente dei conservatori e riformisti a Nardò. L'auto del politico, un Audi A4 Station Wagon, era parcheggiata sotto casa in via Pomponazzi, una stradina alla periferia della città ed è stata completamente distrutta dal rogo. Nessun dubbio sulla matrice dolosa delle fiamme. I vigili del fuoco hanno trovato sul posto una bottiglia con residui di liquido infiammabile. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di polizia di Nardò. Il motivo per cui è stato appiccato l'incendio per ora resta oscuro. Lo stesso Frasca, a quanto pare, non ha saputo fornire dettagli particolari su chi possa aver desiderato lasciargli quel tipo di messaggio. Quello della notte scorsa è l'ennesimo incendio doloso ai danni di un'autovettura, un episodio che questa volta assume però una connotazione particolare, sebbene ancora tutta da decifrare. Oltre otto ore di discussione hanno caratterizzato il primo incontro del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia che si è tenuto ieri a Bari presso Villa Romanazzi. Un incontro tra le istituzioni, Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Commissione Europea, Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e Associazioni di Categoria per analizzare i criteri di aggiudicazione dei bandi che saranno pubblicati nell'ambito della programmazione 2014-2020, le candidature di proposte progettuali e la metodologia per l'attuazione dei fondi del programma ai soggetti operanti sul territorio. Un tavolo di confronto che, attraverso un approccio partecipativo, ha permesso di analizzare tutti i punti del programma basato sulle linee guida dettate dalla Commissione Europea, tante le novità a partire da priorità e focus area che hanno sostituito gli assi della vecchia programmazione e l'introduzione opzionale di sottoprogrammi tematici per rispondere a specifici bisogni. Associazionismo e cooperazione, sviluppo locale e ambiente. Sono state queste alcune delle parole chiave che hanno accompagnato gli addetti ai lavori nel percorso di sviluppo rurale. Questo era un evento molto atteso perché dopo aver scritto il PSR bisognava declinare con dei criteri queste misure per fare in modo che poi si potessero fare i bandi. Questi bandi saranno il compito dei prossimi mesi della nostra struttura, ovviamente con un cronoprogramma ben particolare, specifico e dettagliato, quindi avendo un cadenzamento delle attività da dover far svolgere e avendo anche una chiara individuazione delle risorse da ripartirsi bando per bando, sapendo che il nostro PSR, che pure è dotato di un miliardo e 600 milioni di euro, dovrà essere esaustivo per sei anni, sette anni di attività. Era una riunione, quella di oggi, nella quale ovviamente c'erano ancora delle cose da dipanare con la Commissione europea, con il partenariato che interviene qui nel Comitato di Sorveglianza. Credo che il lavoro sia stato molto proficuo. Siamo riusciti ad individuare pressoché per tutte le misure dei criteri condivisi. Rimangono alcune limature da doversi effettuare, però il grosso del lavoro è stato fatto e questo ci mette in condizione di dire che a breve già inizieremo a mettere in campo le prime misure, soprattutto quelle rivolte alle cosiddette misure a superficie, quindi la parte che aveva una serie di incombenze, la parte per i giovani e la parte invece per le aziende che vogliono fare degli investimenti. Le audizioni di ieri in terza commissione consigliare alla sanità hanno confermato le nostre perplessità e le ragioni riguardo un giudizio che non può essere che negativo. Lo dichiara il presidente del gruppo consigliare di Forza Italia, Andrea Caroppo. Lanci Puglia lo ha detto chiaro e tondo. I sindaci non sono stati ascoltati, nessun dialogo è stato avviato con i territori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il primo atto programmatorio della sanità continua Caroppo avrebbe meritato ben altro percorso di condivisione perché non esistono tuttologi ed Emiliano non sfugge da questa certezza. È ancora in tempo per rinunciare alla presunzione di poter varare nelle segrete stanze del palazzo un piano di riordino fatto in casa, tra pochi intimi, senza alcun coinvolgimento delle parti interessate, della politica e soprattutto degli operatori sanitari. Un piano, conclude Caroppo, che non ha avuto alcuna attenzione per le specifiche necessità dei territori e che risente della gravissima carenza d'organico di personale medico e infermeristico. Proseguono i seminari di approfondimento sull'emergenza xylella fastidiosa organizzati da col diretti lecce e rivolti a operatori e tecnici del settore agricolo. Il quarto incontro ha come relatore il professor Marco Scortichini, direttore del CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. Durante la riunione il batteriologo illustrerà i risultati della sperimentazione in campo per contrastare il batterio da quarantena xylella fastidiosa. Obiettivo del ciclo di approfondimenti fortemente evoluti da col diretti lecce è quello di tenere costantemente informati gli olivicoltori e i tecnici sullo stato dell'arte della ricerca sui dissecamenti. Un'occasione anche per gli operatori professionali di fare domande e di esporre osservazioni agli esponenti del mondo scientifico. Osservazioni frutto di analisi empiriche scaturite dal costante lavoro negli oliveti colpiti dai dissecamenti. Il professor Carlo Flamigni, ospite a Lecce in un convegno organizzato da Antonio Luperto, responsabile per l'Asra di Lecce, del centro di fisiopatologia della riproduzione e procreazione medicalmente assistita, PMA, dell'ospedale di Nardò. Il cosiddetto padre della provetta parlerà dell'utero in affitto e di procreazione assistita. Un appuntamento di grande attualità a quello che si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 marzo all'hotel Hilton di Lecce. Affascinante il titolo del convegno, dal mito alla provetta, ovvero dalla mitologia che faceva sorgere Venere dalla spuma delle onde, alla stepchild adoption, letteralmente adozione del figliastro, il meccanismo che permette ad uno dei membri di una coppia di essere riconosciuto come genitore del figlio biologico o adottivo del compagno. Possibilità che il disegno di legge Cirinna sulle unioni civili prevede anche per le coppie omosessuali. Si parlerà di procreazione assistita, ma anche dei limiti imposti dall'etica e di deontologia medica lungo il percorso dell'umanità, dal fascino romantico della prima notte all'utero in affitto. Il professor Flamigni, che ha scritto la storia della fecondazione assistita, sabato terrà una lezione magistralis. Tra i relatori del convegno, Maurizio Bossi, l'andrologo-sessuologo divulgatore in tv che traccerà i limiti del lecito e i confini dell'insulto alla natura. Dobbiamo cercare di far ritornare la procreazione nell'ambito del rapporto coniugale, sottolinea il dottor Antonio Luperto, che a Nardò ha avviato una criobanca. Le cellule sessuali di marito e moglie devono incontrarsi nell'amplesso coniugale, senza affittare di qua e di là gli uteri, le uova o gli spermatozoi. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, che deve conoscere e pretendere le opportunità offerte dal centro PMA di Nardò, venerdì sera ci sarà un grande spettacolo al Politiama Greco di Lecce, alla presenza dei relatori del convegno e di tanti artisti. Dopo l'importante vittoria in trasferta a Monopoli e tre giorni di riposo concessi dal tecnico Piero Braglia, i giallorossi sono tornati ad allenarsi in vista della sfida di lunedì sera, che li vedrà opposti al Catanzaro. Contro la formazione calabrese, l'allenatore toscano tornerà a sedere sulla panchina del Lecce, avendo scontato le due giornate di squalifica. Buone notizie per il bomber Davide Moscardelli, che si è allenato regolarmente con il gruppo. La torsione subita al ginocchio sinistro nel finale di partita con il Monopoli non si è rivelata più preoccupante del previsto, mentre il difensore centrale Gianluca Freddi ha svolto lavoro personalizzato per un problema ad un piede. Al momento la sua presenza per lunedì sera resta incerta. Anche per oggi doppio allenamento al mattino al Via del Mare a porte aperte e nel pomeriggio presso la cittadina dello sport di Martignano a porte chiuse. Siamo consapevoli di essere una buona squadra, ma bisogna dimostrarlo ogni volta che scendiamo in campo, ha affermato il laterale esterno Franco Lepore, uno dei calciatori giallorossi più continui in questa fase del campionato. Il risultato della gara Benevento-Casertana non mi interessa, anche se un 6-0 fa sempre parlare. Sinceramente, ha detto Lepore, a me piace guardare in casa mia, quindi noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, proseguendo nell'ottenere questi risultati per costruire qualcosa di importante. Nell'ultima sfida di Monopoli abbiamo avuto diverse occasioni da gol che non siamo riusciti a sfruttare, dobbiamo essere maggiormente cinici e riuscire ad andare in gol quando ci capita l'occasione. Contro il Catanzaro, all'andata, abbiamo subito una brutta sconfitta, ricorda Lepore. Giocammo bene nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo commesso qualche errore di concentrazione, anche se il gol della vittoria dei calabresi fu del tutto fortuito. I uomini di Erra sono reduci da un brutto stop contro il Matera e saranno certamente agguerriti, ma noi dovremmo esserlo di più. Vincere ancora, non c'è altra scelta, dice Lepore, anche perché ormai l'obiettivo del primato è a un soffio. Infine, i tifosi che acquisteranno un biglietto per la sfida Lecce-Catanzaro avranno la possibilità di acquistare un tagliando dello stesso settore per la successiva gara interna contro il Matera, con uno sconto del 50%. Il club giallorosso ha pensato ancora una volta ai propri supporters per garantire il massimo sostegno a Papini e Compagni.